Sembrano passati mille anni, da quando sono scappato da quella caverna. Sono diventato Iron Man. Per la regia di Anthony e Joe Russo, con Karen Gillian, Bradley Cooper, Bry Larson e Scarlett Johansson, esce Avengers Endgame. Non ero più sorpresa, ma speravo tanto di organizzare l'ultima. Il mondo è cambiato. La catastrofica catena di eventi, scatenata da Thanos, che ha dimezzato la popolazione dell'universo e colpito il team degli Avengers, spingerà i supereroi rimasti a intraprendere un'ultima azione. A volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Nel cast, anche Evangeline Lilly, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Ho visto morire queste persone. Continuo a dire a tutti di andare avanti. Alcuni lo fanno, ma noi no. Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere, nei confronti del mondo, di provarci. Lo faremo a qualunque costo. A qualunque costo. A qualunque costo.